Ma c'è una foto, una volta in giro la partita, ma chi è la cosa che fai? Il primo è una considerazione sulla partita? Il primo tempo 0 a 0, il secondo tempo 1 a 0 per la Lazio Ma non è il pronostico, ma come la vede la partita? Ma è abbastanza combattuta, tu me chiedi qui? Ma no, è simpatizzante per la Lazio Ernesto, dica, come hai proceduto la partita? Abbastanza male Perché tu sei il riposo del lì Della Lazio Ah, allora te l'hai del lì Ma io sono il riposo dello sport Allì, gravi Il migliore vincere Artorio, Artorio Qualche parola sulla tirata? Eh? Qualche parola sulla tirata? Qualche parola sulla tirata? E' una assomento serata E ringrazio Alla giornata pure Grazie a tutti Un saluto Un saluto Tutti gli amici di questa lavorata Che sono Honorata società Un saluto Un saluto